Ciao, oggi andremo a vedere cos'è Angular. Angular è un framework realizzato dal team di Google. Per framework si intende un'infrastruttura già predisposta atta a realizzare applicazioni web o app, poi con il codice che andremo a scrivere se ne implementano le funzionalità. Con Angular si realizzano single page application, ovvero applicazioni a pagina singola, molto più performanti rispetto alle classiche pagine web. Angular venne compilato la prima volta nel 2010, assumendo il nome di AngularJS. Poi nel 2014 questi venneri completamente ricompilato. Oggi siamo aggiunti alla versione 5 e supporta i linguaggi ECMAScript 5, ECMAScript 6, Dart e TypeScript. Quest'ultimo è il linguaggio da preferire in quanto gli applicativi Angular vengono scritti in TypeScript. Poi Angular si preoccuparà di traspilarlo, cioè ricompilarlo in JavaScript, rendendolo appunto compatibile con gli attuali browser. TypeScript comunque non è altro che un superset di JavaScript, ovvero ne implementa le funzionalità. Il sito di riferimento dove è possibile reperire la documentazione ufficiale è Angular.io. Eccoci nel sito di Angular dove è possibile dimostrare che si tratta di una single page application in quanto cliccando sui vari link non si riefresce il browser ma si cambiano le varie viste. Ora sono andato sul blog e se cliccate su Get Started vi fa vedere come installare Angular sulla vostra macchina. Ma questo lo vedremo via via con il corso. Va bene, per oggi è tutto e ci risentiamo alla prossima. Ciao ciao!